Ma quanto contano per un amministratore delegato i propri collaboratori? Come contano? Cultura dell'errore sì o no, questo dibattito? E poi qual è, secondo Francesco Strace, gli ingredienti di una ricetta di successo, di un cambiamento? Nel corso della sua carriera lei ha ricoperto diverse responsabilità e grandi processi di cambiamento. Come si fa a cambiare un'organizzazione come Enel? Quali sono gli elementi chiave? Grazie. Rispondo prima a questa domanda del cambiamento che poi riflette sui collaboratori. Cioè, per cambiare un'organizzazione ci sono alcune cose abbastanza semplici. E stranamente viene sempre creato un problema sul cambiamento. Innanzitutto ci vuole un gruppo sufficiente di persone convinte su questo aspetto. Non è necessario che sia la maggioranza. Basta un manipolo di cambiatori. Poi vanno individuati i gangli di controllo dell'organizzazione che si vuole cambiare. E bisogna distruggere fisicamente questi centri di potere. Per farlo ci vogliono i cambiatori che vanno infilati lì dentro. Dando ad essi una visibilità sproporzionata rispetto al loro status aziendale. Creando quindi malessere all'interno dell'organizzazione del ganglio che si vuole distruggere. Appena questo malessere diventa sufficientemente manifesto, si colpiscono le persone composte al cambiamento. E questa cosa va fatta in maniera la più plateale e possibilmente manifesta possibile. Sicché da ispirare paura o esempi positivi nel resto dell'organizzazione. Questa cosa va fatta velocemente, con decisione, senza nessuna requie. E dopo pochi mesi l'organizzazione capisce. Perché alla gente non piace soffrire. E quando capiscono che la strada è un'altra, tutto sommato si convincono miracolosamente e vanno tutti lì. Cioè è facile. No, la paura. Cioè, come dire, è inutile. Se il cambiamento, siamo convinti, è giusto. Poi tutto sommato il capo sono io. Quindi si fa. E dopodiché la cosa succede. A questo punto si va a parlare dei collaboratori. I collaboratori sono fondamentali per fare una buona carriera nell'azienda. Non puoi fare una buona carriera tradendo i tuoi collaboratori, maltrattando i tuoi collaboratori, impaurendo i tuoi collaboratori, non motivando i tuoi collaboratori, annoiando i tuoi collaboratori, nascondendoli perché sono troppo bravi. Quindi bisogna individuarli, curarli, assortirli, perché devono essere diversi tra di loro. Se sono tutti uguali c'è un problema. Devono essere diversi. Quindi gestire i casini che la diversità tra i vari collaboratori fa emergere, perché si odiano, bisogna aiutarli. E coltivarli come delle pianticelle. Cioè, il collaboratore va curato tutti i santi giorni. ma proprio in maniera maniacale. Tu sei nessuno senza i collaboratori. Nessuno. Non lo dico perché c'è qualche collaboratore qua. No, però è fondamentale. C'è tutto lì.